Buongiorno e bentornati. Bentornati. Stavo compulsando il testo di oggi. Benvenuti a Ho ragione avvocato. Questa puntata ci vede da soli ma presto gli ospiti torneranno anche perché nel sedicesimo anno di vita effettivamente abbiamo un nutrito parco ospiti che attende di essere invitato e che già ringraziamo fin d'ora perché contribuiscono alla trasmissione. Il collega Avvocato Bastetti vi parla come sempre di un argomento di stretta attualità. Volevo parlare del reddito di cittadinanza in un certo ambito. Mentre da parte mia è una situazione che è di attualità spesso e volentieri quando purtroppo si capita in situazioni di procedimenti penali che è l'istituto della messa alla prova. Probation sarebbe quello inglese, americano. Lasciamo il testo. Prego l'avvocato Bastetti. Va bene, io metto gli strumenti indispensabili. Volevo parlare, perché questo mio colloquio di oggi scaturisce da una domanda che mi ha fatto un cliente, ovvero, come vi dicevo, voglio parlare del reddito di cittadinanza ma in un ambito, nell'ambito del assegno di mantenimento. La domanda che mi ha fatto il cliente è, ma se mia moglie dovesse percepire il reddito di cittadinanza, che ha fatto domanda, l'assegno di mantenimento che io le passo può essere ritoccato a ribasso, ovviamente? Certo. Allora ho cercato di documentarmi. Posto che non ci sono specifici provvedimenti giurisprudenziali, cioè sentenze, sul punto non ne ho trovato, però abbiamo fatto dei ragionamenti. Intanto volevo soltanto ricordare quando spetta l'assegno di mantenimento. Normalmente, stiamo parlando della separazione, l'assegno di mantenimento spetta il coniuge, chiamiamolo, più debole. Quando c'è una disparità di un certo livello, proprio a livello di reddito, è sempre che il richiedente dell'assegno di mantenimento non abbia avuto una pronuncia, la cosiddetta pronuncia di addebito della separazione, ovvero il riconoscimento da parte del giudice che la separazione è finita, cioè il matrimonio è finito per causa, per colpa, che può essere dovuto ad esempio a un tradimento, in certi casi, non sempre, all'abbandono del tetto coniugale, a una violenza particolare. Infatti, le specie sono diverse e talvolta più limitate di quello che normalmente la gente pensa. Non è il semplice tradimento che può essere. Abbiamo già trattato questo. Però ogni cosa è valutata poi ovviamente dal giudice. Ecco, diciamo che questa disparità va, come dire, valutata non tanto e non unicamente per quanto riguarda l'assegno percepito, il reddito vero e proprio, lo stipendio che percepisce uno e l'altro, ma in realtà ha un più ampio respiro, riguarda anche il patrimonio immobiliare e quant'altro, anche addirittura l'aiuto che uno potrebbe o percepisce da parte dei genitori. Ecco, diciamo che in questo ambito rientra anche il reddito di cittadinanza. Cioè, il reddito di cittadinanza, chiariamo subito, la domanda si pone più che altro per quanto attiene il procedimento di divorzio, non tanto di separazione, oppure per una revisione dell'assegno di mantenimento successivo alla separazione. E questo perché? Sì, perché è sempre possibile rivedere. Prima della separazione succede che i coniugi ovviamente sono insieme, anche se poi di fatto magari separati, ma vivono sotto uno stesso tetto, hanno un'ise comune e il reddito di cittadinanza ovviamente di solito non viene riconosciuto perché c'è comunque uno stipendio, almeno uno stipendio in casa. Di solito questa domanda la si pone dopo, cioè c'è la separazione, c'è un provvedimento del giudice, vuoi anche il suo accordo delle parti, appunto un provvedimento che prevede un assieme di mantenimento a favore, in questo caso era della moglie. Successivamente la moglie fa domanda all'Inps per ottenere il reddito di cittadinanza e appunto questo cliente mi chiede, ma nel momento in cui dovesse ottenere il reddito di cittadinanza posso rivedere questo assegno di mantenimento? Allora, la mia valutazione è sì, nel senso che uno può fare la domanda o magari inserire una modifica delle condizioni, o come modifica delle condizioni, o se no ha ricorso per chiedere il divorzio, far presente appunto, certo che il reddito di cittadinanza deve essere realmente percepito, non basta aver fatto la domanda. Poi ci sono altre cose, cioè in realtà da considerare, perché in realtà è un po' il cane che si morde la coda, che il reddito di cittadinanza è influenzato l'ammontare dall'assegno di mantenimento che in questo caso la moglie percepisce, cioè più alto l'assegno e meno è la possibilità di ottenere il reddito di cittadinanza. Viceversa, l'ottenimento del reddito di cittadinanza potrebbe essere valutato dal giudice per ridurre l'assegno di mantenimento. Un po' un costo circuito. Eh sì, è una cosa un po'... Ecco, comunque poi c'è da dire una cosa, che la finalità, almeno sulla carta del reddito di cittadinanza, è quella di inserire il soggetto nel, come dire, in un ambito lavorativo, almeno la finalità sulla carta è quella, per cui di solito il reddito di cittadinanza è limitato nel tempo, per cui può capitare che venga rivisto l'assegno di mantenimento, poi scade il reddito di cittadinanza e a quel punto la moglie può nuovamente ricorrere per... Lei ha detto una parolaccia, il tempo. Il tempo. Purtroppo il tempo potrebbe anche influire sulla procedura per chiedere la modifica delle condizioni. E quindi nel momento in cui magari... Finché non... ...s'arrivasse a una pronuncia può anche darsi che il reddito... Per cui, come vedete, è sempre difficile dare un parere, specialmente quando non ci sono pronunce. Sì, e anche considerando, come dire, i tempi tecnici di queste procedure, che sappiamo sono essere piuttosto, diciamo, non brevi. Non velocissime. Lascio la parola a lei. Bene, allora, il procedimento con sospensione permessa alla prova è sostanzialmente è stato introdotto da una legge 28 aprile 2014, la numero 67, entrata in vigore sempre in quell'anno lì, nel 17 maggio. È una modalità alternativa di definizione del procedimento penale, in questo caso. Mediante questa modalità è possibile pervenire a una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato, laddove il periodo di prova a cui acceda l'indagato imputato venga ammesso dal giudice in presenza di alcuni presupposti che adesso cercheremo di elencare e si concluda con esito positivo. La messa alla prova, lo dico subito, non è fare soltanto i lavori di pubblica utilità. I lavori di pubblica utilità sono una componente. I lavori di pubblica utilità nascono in altro ambito, in un'altra legge e vengono spesso applicati da soli, quando possibile, per le violazioni del codice della strada. La messa alla prova, invece, se non ricordo male, si applica per reati che siano puniti nel massimo con pene di tale fino a 4 anni, quindi non esattamente a tutti. Poi ci sono alcune piccole esclusioni, ma adesso questo non è il caso nel particolare. Comunque, questo istituto cosa fa? Ha una natura intanto consensuale, cioè io lo debbo chiedere, l'indagato, l'imputato lo deve chiedere. Ha una natura di riparazione sociale e individuale del torto connesso alla consumazione del reato. E tutto sommato, questo tipo di, come dire, sanzioni, neanche pene, ma sanzioni alternative, è interessante perché mette l'imputato a contatto con un qualche cosa che non è magari una semplice pena, come dire, sulla carta, magari con la sospensione condizionale, eccetera. No, c'è un qualche cosa da fare. Nella messa alla prova, in concreto... Può essere educativo, una funzione è anche educativa. Le situazioni sono abbastanza ampie, quindi le disposizioni normative dell'articolo 168 bis del codice penale prevedono che la messa alla prova comporti, primo, come diceva Cocchi e Renato, la prestazione di condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, dove possibile, di solito lo è, il risarcimento del danno cagionato dal reato stesso. Qui poi vedremo la quantificazione, è una cosa un po' particolare. Poi, nella stessa ottica, va valutata anche, questo è stato aggiunto non da molto, la possibilità di condotte volte a promuovere la mediazione con la persona offesa. l'articolo 464 bis, comma, quarto, lettera C del codice. Qualora la stessa si è disponibile a intraprendere un percorso di mediazione, cioè, in pratica, una sorta di contatto tra l'imputato e la persona offesa per cercare di fare pace. Adesso, detto un po' così, molto... Cosa, detto in tre parole, è semplice, detta poi nella realtà, è molto più complessa. Però è previsto. È previsto anche, ecco, il fatto che la messa alla prova comporti l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, quindi un controllo da parte del servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare anche attività di volontariato, ma anche osservanza di prescrizione relative ai rapporti col servizio sociale, con la struttura sanitaria, relative alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare dei locali. Qui ci sono un po' delle misure, come dire, quasi cautelari, insomma, no? Stai attento che certe cose le devi fare, per esempio i lavori di pubblica utilità, eccetera, altre cose magari non le devi fare, devi evitarle. Ed ecco che, infatti, condizione indispensabile per l'ammissione all'Istituto è la previsione dello svolgimento di un lavoro di pubblica utilità, ovvero di una prestazione, che cos'è il lavoro di pubblica utilità? Una prestazione non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, regioni, province, comuni, aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operino in Italia di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. Qui però, nella piccola ricerca che ho fatto, mi pare che manchi un punto che invece fortunatamente ricordo a memoria, che queste associazioni devono essere tutte convenzionate con il Tribunale. Una volta, prima di una sentenza della Corte Costituzionale di qualche anno fa, doveva essere il Tribunale del luogo di residenza dell'imputato. Oggi può essere qualsiasi Tribunale. Però, se un'associazione non è convenzionata, purtroppo la validità del lavoro di pubblica utilità non esiste. E questo è importante, per cui dico spesso ai miei assistiti, mi raccomando, fatevi dire se è convenzionata questa associazione col Tribunale di Novaro o altro Tribunale. E soprattutto, fatelo, cioè, datemi una prova di questo. Ci sono degli elenchi. Sì, certo. È successo che una volta, per esempio, un comune era convenzionato, il mio assistito ha detto, ma no, avvocato, ti è tranquillo, non si va. Meno male che poi ho telefonato, eccetera, e ho saputo che stava scadendo la convenzione e che la delibera sarebbe stata, per il rinnovo, presa nel successivo consiglio. Quindi, al ferma tutto e si rischiava di fare un problema, cioè un comune che non è convenzionato. Vabbè, quindi attenzione, sempre molta attenzione, non fidatevi nel senso buono di quello che vi dicono, ma pretendete, pretendiamo, di vedere le cose per iscritto, documenti scritti. Bene, il giudice, e tra poco finisco, quando ritenga che la prova abbia conseguito i risultati prefissati, pronuncia una sentenza, di solito è anche impugnabile comunque, con la quale dichiara il reato estinto, senza tuttavia un pregiudizio per le applicazioni delle sanzioni amministrative e accessorie che rimangono di competenza, se ci sono, dell'autorità amministrativa, 168 ter del codice penale. Qualora invece l'esito della prova sia negativo, cioè non hai rispettato, non sei andato a fare i lavori di pubblica utilità, non hai rispettato i tempi, non hai rispettato il programma sociale, che le assistenze sociali ti hanno dato, il giudice, ai sensi dell'articolo 464,2 septies, del codice di procedura penale, con ordinanza non impugnabile, per il principio di tessatività, perché non è prevista l'impugnazione, dispone che il processo riprenda il suo corso dalla fase in cui è intervenuta la sospensione. Quindi avete buttato via tutto quello che avevate guadagnato. Ecco, poi c'è una sentenza, ma ne parleremo in un altro momento, che appunto ha fatto chiarezza sul discorso che la sospensione non comunque toglie completamente il discorso della Costituzione di parte civile, o meglio lo fa rimanere, ma con determinate limitazioni, perché sono tutti istituti nuovi che si vanno a inserire su cose che nascevano già all'epoca del codice di procedura penale, cioè negli anni 40, poi rinnovato ovviamente il nuovo codice nel 1989. Quindi, come sempre, anche per noi è un lavoro di interpretazione non facile. Grazie a tutti per l'ascolto e alla prossima puntata di O Ragione Avvocato.